letto one piece allora lo dico lo dico adè allora io non l'ho ancora letto l'ultimo capitolo però a quanto pare ci sono delle delle scuse di oda tu ne sei qualcosa sì sì le scuse di oda non l'ho letto letto cioè lo so che non sono disegnati non è disegnato il capitolo per intero ok quindi abbiamo la conferma che non siamo che che non siamo dei c***o quando diciamo che i disegni hanno subito un grande calo di qualità adesso pure quelli che dicono ma è colpa delle scan non ufficiali eccetera lasciatelo stare quindi adesso che l'ha detto pure oda che si è scusato abbiamo un'ufficializzazione del fatto che i disegni stiano vivendo un brutto periodo non faccio nomi ma in questa chat dicevano questo comunque delle scan in bassa risoluzione era abbastanza palese che comunque cioè guardate joy boy contro contro lucci guardate gear second contro lucci sono la stessa si vede chiaramente ci sono usciti pure dei tiktok io penso di cominciare a raccogliere i volumi e non leggerli in blind perché sono sempre in c***o ogni volta che li finisco magari li cumulo tipo cinque sei sei capitoli e poi quando arriva proprio il momento in cui qualcuno non in blind dice adesso serve proprio guardarlo me ne leggo quattro di fila perché non ne posso più però la chiesa le panche perfette ci credo mondo li fanno l'assistente le dichiarazioni dello stesso oda quindi li fanno l'assistente con le robe tutto ciò che non è principale no tutto ciò che non è ha detto lui naturale cioè tipo le onde il cielo le nuvole queste robe qua le fa lui tutto ciò che è inanimato le fanno le fanno gli assistenti e infatti non è vivente tipo comunque e se oda dicesse domani mi fermo con one piece per sei mesi io sarei contento sì boh ma dipende per cosa si ferma mario è sempre lo stesso discorso perché se si ferma perché sta male è un bordello perché one piece rischia di far la fine dante dici fermare la macchina vorrebbe dire fermarla per sempre sotto un certo punto di vista se lo fa sicuramente siamo tutti dispiaciuti di com'è finita con togashi e ogni volta che qualcuno speranzoso dice no vedi che esce un capitolo mi sento non sono la persona più positiva del mondo effettivamente e la cosa che mi preoccupa è che sembra in difficoltà ma continuo ad aprire a cose nuove cioè dragon che ha detto tre cose in croce in tutta l'opera i cavalieri nuovi quelli là cioè occhio agli spoiler ma chi sta a dire che occhio agli spoiler ai cavalieri dei so parecchio spoiler ma perché c'è c'è quando dobbiamo no dobbiamo joy boy c'è 10 mila c'è 10 mila spettatori live mario certo quindi non spoileriamo one piece chiedo scusa no no usa delle pra delle parafrasi ma che f*** di parafrasi devo usare non lo dico e basta questa volta non ho potuto finire a leggi a sì ma l'avevano detta questa roba pomolo pensavo fosse una bufala è vero quindi bene stavolta non ho potuto finire e disegnare mi dispiace abbiamo prenotato alla rio goku koku gikan arena per il banchetto del 25esimo anniversario dell'anime di one piece ho mangiato tantissimo mi sono divertito tantissimo tornerò a lavorare duro mi ha rovinato one piece con quello spoiler quelle sono le cose che non abbiamo capito manco noi non è nessuno spoiler ha fatto praticamente una si è rimpinzato e non ha finito il capitolo questo ci piglia per il culo mi sa eh un pochetto ha mangiato indigestione tipo per il banchetto tirato su per il 25esimo anniversario dell'anime tra l'altro ah era ubriaco a merda no non si sa vabbè e dai e l'ha voluto dire come tipo 5-6 settimane fa che ha pubblicato quella bellissima letterina dei raggi laser dagli occhi perché si doveva operare gli piace gli piace intrattenere anche mentre dalle notizie su questo è molto carino non lo so ma non lo so che cosa c'è una differenza vabbè sì vabbè comunque non io vorrei solo vedere dei bei disegni tutto qua però vabbè pure io ti chiedo troppo io non l'avrei fatto uscire eh esatto non lo fai uscire ti prendi una parola sei andato avanti 20 anni a considerare capitoli rompi questa catena per perubriacattivo confermo sono l'urologo di Oda professionista piglia miliardi ma che cazzo stai a dire ma batte una f***a ti manda f***a sul serio pumolo ma perché che ha detto deficiente fanboy di merda una volta su 25 anni non mi lamento se fa serata con una persona normale raga ma ripigliatevi questo vi incassar me se io non so miliardi di yen e consegna il capitolo con le bozze ma che cazzo è è un professionista Cristo Dio il professionista dai su ma poi dipende anche ripigliatevi raga ripigliatevi su se si deve adorare e avere paura di lesa maestà perché non ha senso il suo lavoro e basta mamma mia ripigliatevi ma poi è mesi e mesi che va avanti così perché non si opera è questo il punto è questo il punto perché disegna di merda non si capisce più niente negli scontri vignette che è sempre più piccole e dialoghi sempre più grossi raga via è vero è questo è sotto gli occhi di tutti non avrebbe mai detto così se fossimo se avessimo guardato dei bei capitoli negli ultimi mesi cioè questo è chiaramente un cumulo sinceramente neanche io mi lamento perché lavori per 10 ore al giorno senza sosta a fregare poco ma allora fai altro diavolo prenditi più pause vai su una rivista seinen ma sono tutte utopie cioè per difenderlo volete veramente che impazzisca quell'uomo lì è assurdo no? si prenda più pause allora diventi mensile e faccia più pagine insieme a me andrebbe bene tra l'altro sì sì ma certo se questo vorrebbe dire volesse dire più qualità ma subito perché pensate che se voi vi lamentate a lui frega qualcosa non è proprio quello che vogliamo non speriamo in una reazione non è una provocazione è sincera delusione non è nessun ricatto né un tentativo di cambiamento gli vogliamo bene vorremmo soltanto il meglio per lui e per l'opera di cui per cui tutti noi ci siamo innamorati e pumolo sei un fanboy mi dispiace ammetti non hai come dico sempre purtroppo è così ma va bene così ci piaci così ma non sei sei fuori sei fuori come di belone sei una milizia di oda non sei un lettore comunque secondo me la maggior parte delle persone che non accettano che si possa fare una critica al maestro oda sono le stesse persone che avevano il prosciutto negli occhi quando si dicevano che i disegni erano brutti è arrivato a scusarsi per la poca attenzione e cura che ha nei confronti dei disegni adesso vi state muti però si passa a difenderlo sotto un altro punto di vista dire non mi piace una determinata cosa di qualcosa che ha fatto la storia non è né simbolo di coraggio né simbolo di palle né simbolo di non rispetto è avere una decenza critica anche nei confronti delle cose se poi siamo abituati a divinizzare le cose e non avere senso critico vuol dire che vi mangereste pure la merda e fareste pure finta che è cioccolata e non è non è bello perché in primis secondo me questo non è rispettare l'opera artistica che si sta vivendo cioè le cose non si scelgono per partito preso che piace il senso della bellezza secondo me dovrebbe essere più responsabile no pumolo non è normale cioè non accorgersi di questa cosa o non prendere questa cosa il banchetto come una scusa perché per me è una scusa eh ragazzi ci tengo a dirlo non ci credo è una trovata simpatica per continuare a intrattenere cioè qualcosa che non va perché da mesi che i disegni fanno cagare e adesso siamo arrivati a questo sì perché non sono gli stessi disegni della fine di Uano sono anche peggio sono molto peggio quindi secondo me è una scusa però può darsi va bene così io dico solo che si deve prendere una pausa allora ti prendi una pausa non consegnare il capitolo così perché se il capitolo io non l'ho ancora visto ma ho visto un'immagine di cum e basta se il capitolo è uno sketchbook è un problema grosso perché anche Togashi fa così ma Togashi è spezzato in due per me dovrebbe lasciar stare però lo vuole fa lo fa io sono per la salute del lavoratore di base sempre se non freghi questo continuo questo continuo burnout di cui si sente parlare è perché ci si sente obbligati a fare le cose rinunciando alla qualità e alla propria salute se il fatto che lui debba è una cosa tipicamente giapponese tra l'altro sì esatto ed è anche per questo che molti giapponesi stanno male perché si sentono obbligati a continuare la macchina del lavoro anche sacrificando se stessi e il fatto sta che questo vorrebbe se vogliamo ogni capitolo ogni settimana e non speriamo in una pausa e poi Yoda diventa cieco perché non riesce a riposarsi gli occhi e ha già avuto problemi agli occhi ditemi se questo è amore nei confronti dell'opera io spero di non guardare One Piece per un anno se poi torna e si finisce degnamente e penso che questo sia sensazione di appartenenza non è schierarsi contro Oda è a favore no ma poi non c'è nemmeno questione di schieramento no cioè qui si sta parlando di una roba che va oltre poi la bellezza dell'opera o la bruttura si parla di semplicemente salute di un artista salute di un lavoratore di base bisogna starci attenti perché tanti autori ci sono morti sono impazziti per le consegne e per i tempi stringenti le riviste giapponesi è una realtà molto grave e anche Oda che mi ha dato un'opera che effetti bruttezza è l'opera che Oda mi ha dato un'opera che mi ha seguito e mi ha fatto crescere e che sto vedendo progressivamente peggiorare da tutti i punti di vista un po' mi fa paura un po' mi preoccupa e sapere che questo capitolo per la prima volta in 25 anni è stato continuato in questa maniera mi preoccupa ancora di più se poi era davvero per il banchetto ok ma dato che negli ultimi mesi i capitoli sono sempre più strani io li definisco strani non li riconosco cioè non riconosco Oda mi preoccupo si trovano nel reddit anche persone che provano a scusare con narrazione il fatto che non abbia finito il capitolo che sia pieno di cose eccetera cioè Togashi è finito con questa situazione a fare capitoli con soltanto testo eh sì cioè Dario diciamoci la verità sei un bambino che non vuole crescere se vuoi ancora una narrazione dieci anni fa il contrario io sono un adulto che vorrebbe una narrazione più adulta da parte di Oda in realtà c'è stata secondo me un'inversione di rotta per il mio gusto personale e per come leggo i fumetti però oh raga me lo trovate per favore Lucci contro Luffy a Ennis Lobby no vabbè no ci sono bro si vede si vede mancano proprio dei calchi mancano delle sfumature sembrano di autori diversi ci sono meno dettagli certo però vabbè basta ma è una citazione una citazione che ti fa capire cioè ma anche Orso Bartolomeu che Frenkie lo ritrova ah ma il pugno sì vabbè il pugno è una citazione certo però ti fa capire anche delle robe quanto calo di qualità ci sia ma la stessa cosa per quanto riguarda quando Frenkie ritrova Kuma ma è normale che la trama sia più veloce stiamo verso la fine ma che vuol dire non ho capito no 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 cioè quindi tutti gli autori che creano un fumetto un film o un album alla fine vanno velocissimi perché sono alla fine devono Kuma ma che vuol dire ma chi l'ha detta sta cosa no 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 secondo me un occhio critico capirebbe che c'è qualcosa che non va è più veloce perché ha una scadenza probabilmente ma se gli editor hanno detto che non hanno nessun potere su Oda fa tutto come gli pare farà come gli pare è stanco deve riposare se si riposa è punto io sono per il riposo allora è che la gente vuole il capitolo ragazzi e soprattutto diciamoci la verità è come i The Pokemon Company un capitolo di Oda sposta un'industria intera più industria intera sposta miliardi di yen c'è bisogno del capitolo non c'è più la necessità autoriale basta c'è proprio bisogno aziendale del capitolo si 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 muove denaro muove economia giostra economia e gli dicono fallo stiamo parlando il fumetto più venduto il manga più venduto del mondo cioè noi lo stiamo aspettando in quanto fan perché siamo dei consumatori ma ci sono sicuramente delle persone che hanno interesse economici che non gliene fotto un c***o della qualità che vogliono soltanto che esca di sempre non lo so non mi ricordo si ragazzi scusate se magari sentite bestemmiare Cristo immagino che ci sia una partita da me si sente invece forse perché c'è una partita di League of Legends sicuramente in corso oh allora se ne parlava anche l'altra volta Gabriele c'eri in chat quindi stai facendo un po' il furbettino nel senso che Luffy adesso non può fare una passeggiata tranquilla è normale che c'è un ammiraglio al colo un'intera flotta oh bene e allora perché non hai dosato meglio i tempi prima se come dite voi sempre Oda ha previsto tutto Oda è il re del forciado ok allora perché se sei il re del forciado e hai pensato a quello che avviene nel volume 100 quando sei al volume 20 non ti dosi meglio i tempi con le saghe invece di perdere tempo con cose che non hanno a che fare niente con la macro storia di One Piece è sempre quello il discorso raga e però raga oh ve l'ho detto l'altra volta ci stiamo ripetendo ora ne stiamo riparlando perché c'è Marione eh se no non avrei nemmeno riaperto l'argomento parlo con un amico di One Piece perché mi piace parlare con Mario che mi sembra che è abbastanza illuminato rispetto alla mezza quello che dico su One Piece lo amo eh sì 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 però è questo cioè e non mi voglio nemmeno impuntare ragazzi ve lo dico sempre se vi piace questo One Piece se vi piace questo Oda se vi piace tutto anche il capitolo abbozzato daglie va benissimo va bene buon per voi raga non vi giudio minimamente è solo la mia opinione è quello che penso io sono abituato a leggere diversamente fumetti diversi ci sta ma non era un meme no no scusa l'abitudine l'abitudine riflesso incondizionato come quando ti vogliono dare una carezza e tu fai così perché sei abituato che prendi le stack io sono d'accordo sui disegni ma per niente sulla narrazione io ti invito a prendere volume 20 volume 22 volume 30 anche il 43 che è un numero bellissimo a livello narrativo il 44 il 45 e paragonalo a quello di oggi a un volume di oggi volume di ora per l'ultimo capitolo facciamo non l'ultimo no facciamo il penultimo o egghead in generale da egghead in poi è una cosa una cosa stranissima se non trovi differenze ma chi l'aveva capito che Kizzaro era steso ragazzi no alcuni dicono di sì cioè boh se stai lì a guardare il capitolo tre ore vignette per vignette ok ma non dovrebbe essere così prima Oda si capiva è un fumetto per ragazzi non per esperti della lettura manga poi ovviamente se siete fissati è chiaro che non vi sfuga niente ma è fuori dal comprendonio medio secondo me in alcuni frangenti ripeto occhio perché rischiate di fare la fine di Cassano Adani Allegri estremisti in ambo le parti quando a mio avviso la verità sta sempre nel mezzo secondo me a te piace tantissimo la Bobo TV e semplicemente stai facendo un piccolo paragone per me stiamo facendo delle parole d'amore stiamo riflettendo e non stiamo né esagerando né mettendo un'energia spasmodica per muovere delle idee o per fare il famoso content di cui parlano i quarantenni è una discussione di appassionati niente di più che traslada perché poi non cambia niente cioè allora perché questo va detto ragazzi è importante a differenza che dice il re non cambia assolutamente niente se noi ci lamentiamo o critichiamo l'ultimo capitolo l'ultima saga o elogiamo l'ultimo capitolo l'ultima saga non cambia cioè diciamo la nostra ci divertiamo insieme a voi in chat e basta non spostiamo le vendite perché One Piece comunque venderà sempre una madonna la gente non smetterà di leggerlo con le critiche nemmeno per sbaglio nemmeno una persona e non succederà assolutamente niente quindi di che c***o stiamo a parlare ragazzi e di sicuro non vengo a casa vostra a strapparvi i numeri di One Piece o a chiudervi la connessione mentre leggete il capitolo nuovo i scan avevi pazienza non c'è zero impatto proprio quindi occhio che che rischiate di diventare dei fanatici perché esprimiamo un'opinione affettuosa tra l'altro germita di di amore preoccupazione quasi ci si preoccupa per la salute dell'autore ragazzi non si giudica nessuno cosa ci incastra il re ora praticamente il re facendo una battuta per carità ci metto tutti i freni del caso le mani avanti del caso ha detto quando stavo leggendo il capitolo ho detto questa qua potrebbe essere quasi quasi la mamma di Rufin e poi dopo dieci secondi no vabbè è palese che sia la mamma anche insieme alla chat siamo messi lì a fantasticare e il re quando l'ha saputo dalla sua chat fa oh Dario Dario se non ti rendi conto la potenza che hai se dici una castroniglia del genere evochi un fiume di marxiscenza oh ci sta a parlare di fumetti non di Gaza ragazzi oh sentite secondo me c'è un problema di fondo che attira tantissime ire nel momento in cui si sta parlando di capitoli sono fumetti per ragazzini se ne dovrebbe parlare con leggerezza senza che non sto parlando con il resto sto parlando di voi che basta che si dicono eh pumolo ma non è normale aspetta un attimo pumolo ma perché la gente va a rompere i coglioni poi ma è normale ma scusa che la gente vada a rompere i coglioni perché io per dieci secondi di orologio ipotizzo per sbaglio e quella sia la mamma di Rufio ma che siamo impazziti raga ma poi non è normale nemmeno che la gente venga da me a passarmi la clip del re per dimmi hai visto cosa ha detto ma che siamo impazziti ma so l'ho detto prima che scherzava l'ho detto prima ma ci senti ma antice l'ho detto prima che scherzava però non è normale il pubblico che va a dire queste cose al re e che poi mi passa le clip del re a me ma che siete impazziti mamma mia secondo me le persone comunque riempiono di importanza una cosa e hanno sussulti di esistenza per le cose sbagliate perché qua comunque si sta parlando di gusti di fumetti quando si prende troppo sediamente ho letto una cosa è normale se è influente ma la gente quando va in via roma accola i servetti va ad arpanai e fa oh lo sai cosa ha detto daremo c'è l'ultimo capitolo ha detto che che giri è la mamma di rufi no per davvero incredibile ma che botta ci avete ci si richiama una responsabilità ad avere un'opinione su un fumetto tra l'altro non dice che non dice manco che è una merda che ora deve morire non è vero cosa sembra il fandom di evangelion quasi quasi non è vero cosa che qui veramente ti lincio non è vero cosa il re del biker raft e poi arriva collats 99 primo commento il re è blur ti prego si fatti visitare perché qua c'è qualcosa che non va non è vero la gente guarda la reaction si fa durissate e via se veramente prendete l'opinione di uno che legge fumetti per oro colato perché per 10 secondi ti teorizza su un personaggio poi dicendo un'altra cosa subito dopo siete voi che avete dei problemi raga è un casino è un bel casino cioè ricordo comunque che è un fumetto perché dobbiamo abituarci sempre di più al confronto comunque perché non può essere che il conflitto è sempre una cosa negativa cioè non sono d'accordo finalmente non sono d'accordo è una cosa molto bella non si deve richiedere cioè poi tra l'altro lo colpite nel punto in cui sapete in cui è sensibile cioè hai un'influenza ne devi essere responsabile è chiaro che lo triggerate ma infatti ma no no aspetta secondo me no 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 ma infatti io sono responsabile non è che non lo so questa cosa la so mica sono scemo io sono andato ieri hai 12 anni in posto lavoro lo so perfettamente ma infatti mi prendo le mie responsabilità cerco di rigare dritto per certe cose poi farle mica me le fanno tutti però cerco di fare le cose come si devono però ragazzi più che di vi confrontiamoci veniamo qua parliamo vi leggo anche tutti i wall of text se ne parla qualche punto leggo tutte le volte anche pumolo è grossa eh però ci confrontiamo su tutto e ma se la gente va ripeto a pappagallo però è un casino come dico sempre fidatevi dei miei consigli se vi fidate del mio gusto infatti di fumetti perché non ho letto i tanti perché conosco gli autori vado a recuperare tutte le interviste mi documento sull'animazione eccetera poi però tornate qua e mi ringraziate per un consiglio se vi è piaciuto ma se non vi è piaciuto spiegatemi perché se ne parla però one piece ragazzi crea delle tifoserie mai viste prima sì sì le ho viste in evangelion queste cose per esempio secondo me secondo me fatto sta che la verità sta sempre non nel mezzo perché secondo me diventa troppo qualunquista diventa nella sintesi quindi se trovate qualcuno che possa essere l'esempio della vostra tesi dovete trovare l'antitesi e viceversa pensate che sia l'antitesi questa cosa andate a farvi una tesi e andate a completarvi il discorso perché noi abbiamo la responsabilità di essere un esempio ma non l'esempio se invece vedete l'esempio penso che il fanatismo sia dall'altra parte non da questa ma l'hai letto il capitolo te no l'ultimo io no non l'ho letto ah ok Mario ti garberebbe l'ultimo capitolo non dovresti avere tutto questo bias un'altra un'altra parola vuota non lo voglio vedere ma il capitolo può essere fantastico ragazzi quanto vi pare a livello narrativo noi si sta parlando anzi tutto il discorso è iniziato ora siamo andati super off topic dal fatto che è stato consegnato incompleto e abbiamo fatto tutta una riflessione su questo poi il capitolo magari è figo ma comunque deve essere incompleto non lo vuoi vedere per il discorso che è incompleto no 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 non è nessun nessun nessuna protesta di questo tipo ho pensato che sono insoddisfatto ogni capitolo che leggo quindi li cumulo e poi li leggo ne leggo 5 in una botta così se non mi piace quantomeno mi sono fatto una bella scorpacciata in ogni caso Papu ma scusa allora ma sei è tutto ok a te Dario non fa arrabbiare se qualcuno di influente genera disinformazioni sui fiumetti Papu io non ho fatto disinformazione se io sto leggendo il capitolo per la prima volta e per 10 secondi fantastico sulla mamma di Rufy è disinformazione è disinformazione di che ho negato l'olocausto è disinformazione di cosa che speculano tutti da 25 mila anni su One Piece su ogni stronzata ma stiamo scherzando comunque secondo me non sono vere critiche sanno che ti danno una reazione dove ti senti preso in causa secondo me perché non è non è possibile essere così seri su One Piece no spero di no spero di no spero di no è impossibile no no però io rispondo sempre perché qualcuno ci può credere e allora metto le cose a posto speriamo di no però eh per 10 secondi ho speculato su questa cosa comunque c'è anche da dire che le teorizzazioni io a me piace anche sparare le minchiate perché è una forma di sfogo verso il fatto che devo leggere un capitolo a settimana perché vengo anche da per esempio due tre volumi nello stesso giorno l'indomani altri tre volumi adesso leggo un capitolo che cosa faccio sparo enormi minchiate su quello che penso di come andrà penso che sia una delle componenti principali di seguire un fumetto secondo te come finisce secondo te cosa c'è dopo secondo te God Valley come verrà strutturata dopo ma è già finita no impossibile secondo me torna con Garp quando va cioè scusate cioè non si può parlare no no vabbè vabbè però le teorizzazioni sono alla base se poi ci si incontra il tipo cosa hai detto hai una responsabilità verso One Piece ma poi ragazzi usate le parole per venino l'italiano è importante la disinformazione è una cosa seria sì se uno teorizza per dieci secondi non è disinformazione disinformazione è dire non so che Tezuka è morto nel 2020 ed ha scritto Dragon Ball quella è disinformazione perché il pubblico magari ignorante non lo sa e ci crede o che Togashi non ha continuato Hunter Hunter perché è pigro quello è un esempio di disinformazione quello si pensava davvero poi si è scoperto tutto il patatrac e anche Miura ha fatto risvegliare un po' le coscienze in realtà su questo almeno si è sacrificato per qualcosa tra virgolette però mi sembra che in realtà sia tornato tutto come prima cioè nessuno ne parla più è già stata digerita questa informazione detto questo secondo me nel discorso del Ratch è una grande parte di comedi di comicità perché io mi sono sempre trovato io l'ho detto l'ho detto l'ho detto da Dio sia con Angelo Sommobuda sia con il re di Backendraft dopo che sono arrivato in pari con One Piece ne ho visti tanti che trattavano One Piece e ogni volta che sentivo una traccia di fanatismo e Bibbia mi allontanavo non mi ricordo nemmeno come si chiamano quelli là invece per me sono dei grandi no no il re stava scherzando ovviamente il problema è che un po' un po' a parti invertite no chiaramente se dici Dario smettela di disinformare arriva la valanga di marcia e scienza magari qualcuno ci può credere ma credo sia il gioco delle parti però si scherzava credo scherzasse sì ma se tu e il re foste della stessa opinione comunque la gente avrebbe bisogno di schierarvi di schierarvi di mettervi su una parte diversa e schierarsi perché questo comunque il ragionamento popolare se non ti schieri non ti senti un'identità addosso e quindi ci deve sempre essere un uno contro l'altro per me ragione per quello per me ragione questo impossibile che abbiano ragione entrambi che parlando un attimo più italiano si fondano le opinioni no uno o l'altro che palle schierarsi veramente se leggi sempre quasi solo le provocazioni dalla chat è chiaro che la gente punta solo su quello io non credo che ci sia niente di male rispondere alle provocazioni con educazione e tranquillità è bello è bello è bello anzi dedichiamo al conflitto secondo me è bello no minchia non ho problemi con la droga e vabbè immagino che vogliate anche stemperare comunque è una cosa che è una cosa che mi crea sempre dispiacere vedere che non ci siamo abituati perché secondo me non è una non è una questione di inciviltà non ritrovarsi nel conflitto è una questione di poca abitudine cioè mi rendo conto che questa non è maleducazione è ardore di partecipare a una discussione ma quest'ardore mi fa capire che si è poche volte in disaccordo e se si avesse più esempi di discussione e di polemica legittima non si direbbe non si direbbero cose giudicanti ma soltanto punti di vista per esempio dire che si fa disinformazione teorizzando male la mamma di cini penso la mamma di ruf è secondo me segno che non c'è non c'è tante volte confronto secondo me non voglio farne una questione sociale incredibile eccetera ma se proprio ne vogliamo parlare secondo me siamo tutti poco abituati a confrontarci infatti ogni volta che si ha modo di farlo io godo anche se magari c'è qualche parolina di troppo maleducazione ma secondo me anche poca patronanza della lingua italiana non c'è una vera volontà maligna a questo punto si va bene allora lo leggo il capitolo leggo prima della tomodashi se mario non lo vuole leggere lo leggo io no no io non lo leggo se ti viene tristezza grazie ne voglio leggere due tre di fila non è una non è una non è una posizione mi voglio godere meglio le cose dai me lo leggo così poi ci sente fra mezz'oretta io potrò stare pochissimo con la tomodashi perché domani alle 10 devo stare in panini quindi alle 8 devo fare va bene va bene anche io volevo fare volevo fare presto che c'ho Pippo sull'ultimo giorno e io lo scrivo sul gruppo poi vediamo che mi dico ciao ragazzi ciao 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 ciao